Buon pomeriggio, ben trovati ancora da Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini, un veicolo in avaria allo svincolo Ginestra-Fiorentina. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, la direzione è quella per Firenze. Sempre in direzione Firenze ci spostiamo in A1, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano, Sesto Fiorentino. Per quanto riguarda le statali, sulla 64, la Porrettana, c'è un senso unico alternato per lavori tra l'incrocio Pistoia e l'incrocio Villaggio-Il Signorino. Traffico rallentato anche sulla statale 62 della Cisa, dopo Villa Franca in Lunigiana e prima di Pontremori, in direzione di Sarzana. Per quanto riguarda i lavori a Firenze, via Cimabue per un allaccio alla rete fognaria, da oggi il tratto da Via Giotto a via Fra San Giovanni Angelico è chiuso, eccetto i mezzi di soccorso. L'intervento si concluderà l'11 di agosto. Muoversi in Toscana, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, dopo.